buongiorno a tutte ea tutti in questo 29 luglio particolarmente caldo rispetto ai precedenti e ovviamente non ci siamo fatti intimorire e abbiamo mantenuto la tradizione di un incontro per ricordare il giorno della scomparsa di Alessandro Margara ma come abbiamo sempre fatto non è un ricordo semplicemente di una data ma è la prosecuzione di un dialogo con i temi che Sandro Margara eh privilegiava e sono tanti eh quest'anno abbiamo deciso di cogliere questa occasione per eh presentare una ricerca eh della società della ragione con il sostegno della fondazione della cassa di risparmio di Firenze su la salute mentale e l'assistenza psichiatrica nel carcere di Firenze solliciano e è una ricerca intervento per individuare un modello di assistenza psichiatrica e di tutela della salute mentale in carcere dopo l'abolizione degli ospedali psichiatrici giudiziari e una una ricerca che poi è stata curata da Giulia Melani, Katia Ponetti e Lisa Roncone che interverranno successivamente per presentarla eh io come introduzione a questo a questa giornata eh che si articolerà in questo in questo modo la la presentazione della ricerca e poi un intervento di Saverio Migliori dell'archivio Margara e probabilmente di altri qui qui presenti che non non cito per non dimenticare nessuno ma eh eh per anche presentare la possibile soluzione finalmente della intitolazione a Sandro Margara a Firenze di uno spazio vicino adiacente ai luoghi delle carceri storiche e le murate eh e Santa Santa Teresa mi pare questo eh quindi eh per chi è stato amico di Sandro Margara non stupisce il fatto che alla fine stapperemo delle bottiglie eh di vino e di prosecco per eh eh per eh avere un momento di convivialità perché molte idee eh di Sandro venivano proprio attorno a un a una tavola eh con eh cibo e buon vino che aiutano la riflessione. il eh è anche un'occasione per riproporre la presentazione della seconda edizione del libro degli scritti di Margara la giustizia e il senso di umanità eh un'antologia molto ricca complessa eh di mi pare addirittura questa seconda edizione arrivata a quattrocento ottanta sette no quattrocento ottantotto pagine abbiamo presentandolo al giardino degli incontri qualche settimana fa abbiamo immaginato e rappresenti il capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Carlo Rinaldi a cui ho rinnovato come avevo fatto peraltro ad altri capi del dipartimento in passato che questo volume di Margara dovrebbe essere il libro fondamentale per la formazione di magistrati e operatori nel carcere dai direttori provveditori eh la polizia penitenziaria gli educatori tutto questo mondo e eh immediatamente con Carlo Rinaldi è venuta l'idea che forse bisognerebbe dividerlo se il se il dipartimento adesso non sappiamo cosa succederà nei prossimi mesi del dipartimento della giustizia in Italia ma questo è un altro capitolo comunque se eh venisse accolta quest'idea di dividere per capitoli questo volume e farne dei volumetti più eh articolati sui temi eh perché probabilmente spaventa un volume del del genere e invece ci sono dei capitoli specifici che possono essere quelli su eh OPG e eh tutto il corredo della salute mentale il carcere le droghe tutti i capitoli che possono meritare di essere affrontati singolarmente il ho fatto cenno alla situazione del del carcere e della dei tempi che ci avvicineranno in questa estate al venticinque settembre alle elezioni del nuovo parlamento per dire che forse dobbiamo ancora una volta dire che molte occasioni sono state perdute sprecate per la riforma del carcere e devo dire che eh molta responsabilità è anche da parte di coloro che sulla riforma del carcere a parole esprimono buone intenzioni ma come dicevamo da giovani è proprio la via dell'inferno che è la stricata di buone e quindi siamo qui a ricordare le cose che non sono state fatte eh dalla affettività dal diritto all'affettività che proprio il Consiglio regionale della Toscana su impulso del garante dei diritti dei detenuti approvò una legge e la presentò al Parlamento dove è ferma la Commissione Giustizia al Senato e eh altre riforme eh probabilmente avremmo potuto dedicare questa giornata sempre in onore di Sandro Margara anche alla questione dell'ergastolo noi eh l'ergastolo la Corte Costituzionale ha sancito un anno e più mesi fa che l'ergastolo stativo è contro la Costituzione non è costituzionale poi decise però di mantenere questa decisione in un limbo dando al Parlamento un anno di tempo trascorso il quale ha dato altri sei mesi al Parlamento che scadranno a novembre ovviamente a novembre ci sarà qualcuno che dirà sì ma c'è un nuovo Parlamento e quindi eh dateci altri sei mesi il che eh pregiudicherà la credibilità e la dignità del della Corte Costituzionale del Parlamento stesso incapace di affrontare i temi eh importanti io non uso non amo questa termine che dice che ci sono questioni divisive che non non capisco che cosa vogliano dire rispetto al fatto che quando ci sono questioni eh di diritto e di diritti certo che dividono come hanno diviso grandi questioni nel nostro Paese basta ricordare le vicende del divorzio e dell'aborto hanno diviso ma hanno fatto crescere anche la consapevolezza il dibattito la discussione hanno arricchito quindi eh invece è diventato di moda in questi ultimi anni dire che ci sono questioni divisive per cui non bisogna fare nulla tanto meno discutere nel merito no quindi accantonare vabbè e quindi avremmo potuto dedicarlo alla questione dell'ergastolo o appunto alla questione dell'affettività abbiamo scelto questa questione della salute mentale in in carcere perché si lega a una questione molto di attualità legata alla carcere che cos'è oggi il carcere e come si affrontano le criticità del carcere io devo dire e mi avvio alla conclusione sono molto preoccupato che eh si diffondano non fake news sempre per ricordare i tempi della giovinezza c'era un libro molto celebrato che era intitolato le menzogne convenzionali e siamo a questo punto sulla questione del della chiusura degli opg della apertura delle rems per le misure di sicurezza e la situazione della salute mentale in carcere siamo in un momento in cui hanno corso da tutte le parti anche dalle parti più vicine culturalmente a noi la diffusione di stereotipi cioè che in carcere sarebbero tutti matti e quindi non si sa bene che fare e questo fa rafforza quella nostalgia del manicomio e del manicomio giudiziario che si è diffusa con i ricorsi alla corte costituzionale proprio sulla legge che ha chiuso gli opg per fortuna quella impostazione è stata bocciata dalla corte costituzionale che però ha posto dei macigni non da poco sulla questione e allora il la verità è che è vero che il carcere è sovraffollato ed è sovraffollato perché c'è una legge punitiva sulle droghe che riempie le carceri del 50 per cento dei detenuti e di questo 50 per cento una parte sono detenuti classificati come tossicodipendenti ma che hanno reati predatori ma il 35 per cento sono persone che violano la legge il dpr 309 90 per detenzione piccolo spaccio noi nel libro bianco sulle droghe che è giunto alla tredicesima edizione mostriamo i numeri che sono numeri ufficiali che testimoniano questo peso della legge sulle droghe sul carcere oltre che sui tribunali quindi quando si parla di sovraffollamento bisognerebbe che tutti dicessero qual è la causa del sovraffollamento perché non è un elemento naturale come la siccità è un fatto prodotto scientificamente dalle leggi criminogene e sul fatto che ci siano persone con disturbi di diverso tipo in carcere è sicuramente vero ma va precisato noi dobbiamo essere seri e precisi non possiamo far circolare appunto questa vulgata che in carcere sono tutti matti primo perché credo che i matti siano quelli che governano il carcere e forse da lì si dovrebbe partire per affrontare le questioni terapeutiche ma il problema è che va occorrono distinzioni ci sono persone con malattie psichiatriche conclamate schizofrenia psicosi eccetera o ci sono invece in gran parte persone che hanno disturbi di relazione di comportamento che li hanno fuori e che sono accentuati in carcere per le condizioni di vita del carcere e per il rifiuto del regime di costrizione ora ovviamente gli interventi vanno calibrati sulle singole persone e non mettere tutto insieme perché altrimenti questo spinge coloro che hanno nostalgia del manicomio di dire beh allora siccome siamo buoni perché adesso tutti sono buoni e nessuno ama il carcere allora tutti dicono che bisogna i malati bisogna metterli fuori dal carcere giustissimo l'abbiamo sempre in realtà siamo sempre stati in pochi a dirlo ma adesso lo dicono tutti sono tutti diventati buoni però nessuno fa niente perché escano dal carcere in realtà allora il problema del dove come con che strumenti noi che abbiamo presentato sempre come società della ragione nei seminari di treppo carnico abbiamo elaborato e abbiamo presentato la proposta di legge ventinove trentanove con deputato Riccardo Maggi sulla questione della non imputabilità del doppio regime del codice Rocco sul proscioglimento sulla non imputabilità noi abbiamo individuato una soluzione radicale di fondo per affrontare questi temi però nella situazione data noi diciamo che centrale deve essere il ruolo del dipartimento di salute mentale in carcere che deve essere presente e affrontare le questioni per quello che sono e la magistratura di sorveglianza deve rispondere alle richieste di misure alternative calibrate sulle diverse realtà ci sono quindi è evidente che ci possono essere persone che hanno delle patologie serie che devono trovare una misura alternativa a partire dall'incompatibilità con la con la detenzione ci sono persone che hanno dei disturbi appunto come di personalità di comportamento di relazione che probabilmente sono comuni anche a quelli che non lo manifestano con atti di aggressività o di auto aggressione ma questo richiede appunto una riforma del carcere molto forte ho ricordato che Margara nel lavoro che fece di riscrittura della riforma del carcere ipotizzò per le pene fino a 18 mesi che sono tante nelle carceri italiane una struttura alternativa al carcere le case di reintegrazione sociale pensate con la direzione del sindaco quindi tolto completamente all'amministrazione penitenziaria con una collaborazione di soggetti educativi del terzo settore del volontariato molto pregnante una rielaborazione di quelle che tanti anni fa erano le case mandamentali che erano dei luoghi per le pene che stabiliva il pretore ora noi siamo abilissimi a fare delle riforme nominalistiche o meglio semantiche quindi il pretore che era un nome così affascinante è stato abolito e quindi abbiamo altri giudici gip gup eccetera tutte cose meno affascinanti probabilmente comunque questo è il il quadro che che c'era in passato era quella di un luogo per le pene date dal pretore che era la casa mandamentale gestita da un custode del comune abbiamo fatto le riforme pensando che le misure alternative fossero adeguate adesso abbiamo in realtà un nuovo doppio binario chi ha la fortuna vino al mogiorno a scontare perché le misure alternative non ci sono insomma è un quadro complesso ma voglio tornare al fatto che se anche associazioni e persone vicine a noi dicono che in carcere ci sono i due terzi tre quarti lo so di persone con patologie psichiatriche noi apriamo una voragine per riaprire i manicomi è del tutto evidente perché in carcere i direttori tutto il personale dice che ci sono persone ingestibili e siccome ci dicono anche voi avete fatto una legge per cui non li possiamo più picchiare e torturare ci dite anche che non vanno messi nelle celle lisce ci dite eccetera noi non sappiamo che fare era meglio quando si stava peggio perché quando c'era la persona ingestibile si mandava in osservazione in opg ci stava 30 giorni e poi forse per tutta la vita il problema il carcere diventava più gestibile come si risponde a tutto questo io credo con una grande intelligenza riformatrice non sono cose impossibili perché diffuse sul territorio delle 190 carceri siamo a numeri gestibili sì no dal dipartimento salute mentale appunto certo facendo per le pene brevi come ha denunciato Mauro Palma il garante nazionale ci sono troppo migliaia di persone con condanne sotto un anno ed eseguite o persone con fine pena fino a tre anni che potrebbero essere fuori dal carcere ma dove li mettiamo perché questa è sempre la domanda perché si parla sempre non di persone ma o di corpi ammassati o di oggetti di pacchi dove li mettiamo l'ho detto e scritto volte volte quando ero giovane e a Milano mi occupavo della chiusura dello zoo la domanda sempre umanitaria devo dire no di tutte le persone sensibili e buone era ma dove mettiamo l'elefante che è qui da tanti anni dove mettiamo la tigre che è abituata e sta così bene qui in gabbia non parliamo del leone delle scimmie e su questa cosa del dove li mettiamo c'era l'idea di non fare nulla in realtà poi si chiuse lo zoo a Milano ai giardini pubblici e credo che si trovò soluzioni e si devono trovare le soluzioni per le persone non appunto eh non fare nulla perché si pone la domanda dove li mettiamo e penso che se noi eh Margara ci aiuterebbe cioè ci aveva già aiutato l'aveva scritto perché lui che era quello che aveva scritto la riforma capì che c'era una deriva e che bisognava intervenire a migliorare correggere e la il suo lavoro fu presentato da Marco Boato in Parlamento con le firme l'ho ricordato anche di Finocchiaro Pisapia e Fanfani e molti altri purtroppo rimase nel cassetto e poi si sono fatte tante commissioni ma invece di partire dal testo di Margara si sono fatte tante commissioni il risultato è stato uguale che anche le proposte delle commissioni giacciono ecco allora oggi noi affrontiamo questa questione della salute mentale perché particolarmente delicata e rischiosa per le conseguenze che potrebbe avere le spinte mettere assieme a situazione del carcere l'abolizione dell'opg la nostalgia del manicomio allora le proposte di legge che abbiamo elaborato questa ricerca danno invece delle risposte che sono di serietà di approfondimento e di non ripercorrere strade vecchie ma di immaginare soluzioni originali e nuove ecco quindi io l'ho fatta troppo lunga ma era per inquadrare questa nostra giornata insomma che chiuderà intorno credo a mezzogiorno e adesso io ringrazio ringraziando le persone presenti qui a san salvi nella sede della società della ragione che sono più di quelle che avevamo preventivato però c'eravamo cautelati le bottiglie sono in numero adeguato il come e collegate sono 35 persone che ci stanno ascoltando abbiamo avuto messaggi dalla presidente antonietta fiorillo che non può essere presente ma penso che ci ascolterà o comunque ci ha manifestato grande amicizia e solidarietà e così il presidente bortolato altre adesioni semmai saranno dette più avanti io ringrazio i presenti e chi ci ascolta e do la parola a Giulia Melani no a cattia ponetti per introdurre la i contenuti della relazione buona giornata in ricordo di sandro margara allora buongiorno a tutti e a tutte ehm vi porto innanzitutto i saluti del garante regionale Giuseppe Fanfani che oggi non ha potuto essere qui ma che ha sostenuto da anche dal punto di vista scientifico questa questa ricerca e quindi appunto eh raccomanda appunto di di salutarvi tutti e di niente di essere presente virtualmente diciamo non funziona ok funziona ok 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 allora ehm io soltanto alcune piccole cose introduttive giusto per eh inquadrare il tema dopodiché lascio la parola a Giulia che invece parlerà più nel merito della ricerca effettuata alcune cose introduttive che sono eh però fondamentali per riportarci all'importanza di di questa tematica la gestione della salute all'interno del carcere è una competenza regionale ci pare oggi una cosa ovvia scontata ci pare semplicemente riportare la ripartizione costituzionale delle competenze in realtà eh questo è un è un'affermazione di ehm di reale tutela dei diritti delle persone almeno dal punto di vista dell'intenzione del legislatore eh che noi dobbiamo ehm continuare eh a ribadire nella sua importanza perché eh non è un qualcosa di scontato come può apparire ma è l'esito di un lungo percorso a cui si è arrivati dopo eh le riforme legislative che sono partite dalla fine eh del del secolo scorso precedentemente la salute in carcere era gestita direttamente dall'amministrazione penitenziaria per cui eh questo esito eh così importante io credo che noi lo dobbiamo sempre tenere presente come ehm come il principio guida a cui non si può ehm non si può mai venire meno e di cui si deve sempre sottolineare l'importanza perché è la radice dell'uguaglianza tra chi è eh una si trova ad essere una persona detenuta e e chi non lo è. Eh detto questo eh mi sembra importante sottolineare eh due questioni che poi appunto sono eh state affrontate nell'ambito della ricerca e che sono ehm emerse ehm a seguito della della riforma per il superamento degli OPG e che riguardano la disciplina della salute mentale all'interno del carcere. Eh con la chiusura degli OPG mh le persone che un tempo venivano qualificate come articolo centoquarantotto ovvero quelle persone che pur condannate e quindi considerate capaci di intendere di volere poi all'interno del carcere venivano considerate ehm affette da da patologia psichiatrica eh non hanno più eh avuto e mi mi viene in mente appunto quello che diceva Franco prima un posto dove essere messe perché prima queste persone avevano un posto in cui venivano mandate ed era l'OPG ci venivano mandate eh prima per accertare le loro condizioni di salute e poi eh successivamente nella gran parte dei casi ci rimanevano. Chiusi gli OPG questa figura eh è rimasta appunto orfana di un contenitore in cui essere messa. Eh quindi diciamo la questione dei diritti e della dignità della persona si è posta in maniera forte tanto che la Corte Costituzionale ha affrontato il tema con e si è espressa con la sentenza novantanove del duemiladiciannove. Con questa sentenza la Corte Costituzionale ci ha detto una cosa molto importante ci ha detto che quell'articolo non è più eh non è più valido perché appunto non esiste più l'OPG e ci ha detto che eh la grave infermità mentale deve essere disciplinata alla pari della grave infermità fisica ovvero utilizzando l'articolo centoquarantasette del codice penale. Che cosa significa questo? Significa che ehm le persone che sono ritenute affette da una grave infermità mentale a seguito di questa sentenza possono uscire dal carcere così come ehm avviene per le persone affette da una grave infermità fisica eh per poter essere curate in una struttura sanitaria esterna al carcere che eh si appunto si prenda cura della loro salute. Questa sentenza è importantissima perché ha eh detto come devono essere trattate le persone affette da malattia mentale che sono all'interno del carcere. Ha indicato una strada, ha indicato che eh ci sono dei casi in cui eh il carcere può non essere compatibile con la tutela della salute. Un'altra questione che riguarda appunto sempre l'ambito delle persone condannate ehm e che hanno una patologia mentale è quella delle cosiddette ATSM. Le ATSM sono eh ATSM è l'acronimo per articolazione per la tutela della salute mentale. Si tratta di eh sezioni interne agli istituti penitenziari che eh diciamo trovano una radice molto generale nell'articolo sessantacinque dell'ordinamento penitenziario che in generale prevede la possibilità di istituire sezioni speciali. Eh ma nello nei loro aspetti mh organizzativi operativi e mh diciamo sanitari soprattutto non non sono eh disciplinate da norme di legge. Questo è un vulnus all'interno della della legislazione ehm su cui è necessario riflettere. Poi ci possono essere eh differenti diciamo differenti proposte, differenti soluzioni che che si possono immaginare. Però è importante evidenziare che eh tutte le poche perché non sono tantissime però tutte le poche eh norme che noi abbiamo e che riguardano queste articolazioni sono state stabilite con accordi di Stato-Regione che quindi non hanno un un livello legislativo. Anche questa può sembrare una formalità ma non lo è per niente perché si parla di una modalità di ehm di privazione della libertà personale e la privazione della libertà personale può essere ehm posta in essere soltanto in base alla legge cioè questo è è l'abeas corpus è il cardine diciamo dei nostri delle no dei nostri stati di diritto quindi non è una una questione affatto affatto marginale e vedremo insomma poi alla fine faremo qualche commento su quello che è avvenuto fuori dalla ricerca perché appunto insomma anche su queste cose ci sono ci sono sono state delle risposte interessanti secondo me anche nel eh nella possibilità di estendere la tutela a a queste situazioni che attualmente non sono mh diciamo non sono abbastanza ben tutelate a livello legislativo. Eh io mi fermo qui e lascio la parola a Giulia e e poi alla fine faremo insieme qualche commento. Buongiorno a tutti e a tutti ma si sente? Sì perfetto. Ehm allora eh parto col presentarvi gli esiti eh di questa ricerca che abbiamo fatto eh la ricerca è stata ha previsto diciamo una parte di ricerca documentale eh e di ricostruzione normativa eh e eh diciamo dei dei vari accordi quindi normativa eh in senso ampio eh dopodiché una parte eh qualitativa eh in cui abbiamo fatto alcune interviste eh a eh diciamo dirigenti o persone in posizione apicali delle varie agenzie che eh a largo spettro si occupano della salute mentale in carcere eh relativamente al carcere di Sollicciano perché questa ricerca diciamo si è concentrata sulla regione toscana e in particolare sul carcere di Sollicciano che è il carcere nella nostra regione ospita l'articolazione di tutela della salute mentale. Eh con la nostra ricerca volevamo eh cercare di capire eh diciamo un po' eh qual è la concezione eh diciamo la la cultura eh e la concezione della salute mentale che hanno eh i vertici delle varie agenzie che si occupano di salute mentale. Eh volevamo poi capire come funzionano eh le interazioni tra le diverse agenzie che ovviamente si portano dietro eh diverse culture professionali e quindi diverse anche eh idee su come approcciare eh alla questione della salute mentale e volevamo eh inoltre comprendere alcuni aspetti relativi al funzionamento quindi quali servizi sono offerti eh come funziona per esempio l'invio in articolazione di salute mentale quindi eh chi decide come eh si procede in questo senso e eh se diciamo la misura di cui parlava Katia quindi eh quella introdotta dalla sentenza novantanove del duemiladiciannove della Corte Costituzionale avesse una sua efficacia. Infine abbiamo chiesto ai nostri interlocutori quali ritenessero eh i principali problemi eh della salute mentale eh in carcere e quali ritenessero le le soluzioni auspicabili. Eh la ricerca ha coinvolto eh sia diciamo l'agenzia penitenziaria eh sia quella sanitaria eh che quella socioassistenziale ehm da eh e la magistratura di sorveglianza scusatemi anche eh quello che è emerso eh dalla nostra ricerca ehm intanto è questo eh rispetto alla concezione eh della salute mentale eh abbiamo verificato eh che eh positivamente diciamo tutti i vertici delle varie agenzie condividono una concezione ampia di salute mentale biopsicosociale in linea con quella eh con quelle che sono con quella che è la definizione dell'organizzazione mondiale della sanità eh e quindi abbiamo verificato che a livello diciamo di eh adesione di principio eh tutti i dirigenti dell'agenzia aderiscono a a questa eh visione eh se diciamo sul lato eh sul versante dei principi eh c'è questa condivisione quando diciamo il principio viene fatto calare eh in un aspetto più pratico che è quello della suddivisione delle responsabilità e delle relative competenze diciamo questa uniformità tende un pochino a perdersi eh e eh diciamo ciascuno rimarca il proprio ciascuna agenzia tende a rimarcare il proprio confine di competenza ehm in particolare questo avviene e si verifica si è riscontrato una sorta di conflitto soprattutto tra l'agenzia sanitaria e quella penitenziaria che sono quelle ovviamente più a diretto contatto con la questione e che eh ovviamente maggiormente eh si occupano della gestione diretta eh delle situazioni di disagio eh mentale in carcere. Eh a questo riguardo abbiamo verificato eh diciamo dalle interviste che abbiamo fatto che eh c'è si si può notare eh una sorta di mh rimpallo di di competenze eh l'amministrazione penitenziaria sostiene che eh l'amministrazione sanitaria eh tende a fare un passo indietro rispetto ai casi che l'amministrazione penitenziaria valuta come problematici eh dal canto suo eh la parte sanitaria eh ritiene che vengano mh segnalati per la presa in carico eh una serie di persone che hanno semplicemente dei comportamenti devianti, fastidiosi, irrispettosi delle regole eh o come si si voglia dire che creano disturbo comunque nella gestione eh della vita quotidiana eh del carcere. eh e eh che non siano situazioni che eh necessitano eh di un intervento e di una presa in carico da parte della salute mentale. In questo diciamo conflitto eh di competenza eh sembra che mh una posizione eh diciamo centrale sia ricoperta da tutti quelli che sono i disturbi antisociali, disturbi borderline, disturbi di personalità NAS che eh diciamo mh costituiscono eh il principale bersaglio delle critiche da parte delle due agenzie eh ovvero eh l'agenzia penitenziaria ritiene che siano soggetti sostanzialmente ingestibili e ingestibili perché malati e quindi di non doversene fare carico a che se ne debba fare carico la salute mentale. Dall'altra parte la salute mentale ritiene che queste persone non abbiano necessità di cure ma semplicemente abbiano delle condotte eh non ehm diciamo adeguate al al contesto ehm oltre ehm diciamo questo conflitto ehm sul potere di definizione di chi è ehm psichiatrico eh tra virgolette e chi no eh si estende poi anche all'ambito delle persone che vengono eh mandate in articolazione di tutela della salute mentale. L'articolazione di tutela della salute mentale dovrebbe rappresentare diciamo il servizio offerto per le persone maggiormente vulnerabili ehm salvo appunto quelle ancora più vulnerabili che dovrebbero uscire verso misure alternative quelle che si trovano in uno stato di incompatibilità con la detenzione. Comunque l'articolazione dovrebbe rappresentare appunto il luogo eh per la cura delle persone maggiormente vulnerabili. Eh e eh vi dovrebbero essere poi dei servizi eh che garantiscano a tutte le altre persone che hanno bisogno di supporto e di cura ehm per disturbi e sofferenze eh un giusto supporto. Eh quello diciamo che eh si osserve che anche rispetto eh all'invio in articolazione eh di tutela della salute mentale si gioca quello stesso conflitto eh di cui appunto ho parlato fino a ora cioè la eh salute mentale eh lamenta eh un invio molto numeroso eh di persone che non necessiterebbero di quello specifico servizio. Ehm nella volevo fare un piccolo una piccola osservazione su qual è la procedura con cui si arriva in articolazione perché è una cosa che noi abbiamo chiesto espressamente perché non sapevamo eh di preciso e abbiamo avuto una risposta. Eh l'articolazione è una per l'intera regione toscana e ehm da ogni carcere diciamo provengono delle segnalazioni eh di situazioni che ad avviso spesso di un medico eh ora io lo chiamerò incorrettamente di base perché mi perdo nella eh denominazione eh tecnica medica però insomma penso ci capiamo e il medico eh di base segnala appunto una situazione che a suo avviso necessita dell'articolazione e poi il provveditorato regionale decide per eh l'invio a Sollicciano. Spesso se l'articolazione eh diciamo è eh ha raggiunto eh il numero massimo di persone la persona che viene mandata dall'altro carcere a Sollicciano sta in una sezione ordinaria ma a Sollicciano. Quindi diciamo questo è un po' eh il quadro Sollicciano che come tutti sappiamo insomma è un carcere che ha notevoli eh problematiche sia in termini di sovraffollamento di condizioni eh igieniche di di servizi insomma sappiamo che è un carcere particolarmente impattante e lo vediamo anche per esempio dai numeri eh sugli atti di autolesionismo che sono veramente allarmanti eh su Sollicciano sono altissimi. perché probabilmente un carcere tutti i carceri diciamo portano ad una eh situazione di particolare sofferenza però probabilmente Sollicciano ha un qualcosa eh di maggiormente cioè aggrava maggiormente la la posizione eh di sofferenza appunto per tutta una serie di questioni ambientali che vanno appunto dal sovraffollamento ai servizi a a tutto il resto. Per quanto riguarda poi eh le persone diciamo particolarmente vulnerabili e che vivono in una condizione patologica eh non compatibile con la disensione eh ci diceva Katia che appunto la sentenza novantanove del duemiladiciannove avrebbe introdotto eh la possibilità eh di estendere eh a queste persone la stessa normativa prevista per le malattie fisiche. Eh abbiamo chiesto alle ai responsabili delle varie agenzie eh se ritenessero che questa mh normativa cioè questa mh sentenza della Corte Costituzionale avesse trovato una qualche applicazione. Allora tutti ci hanno risposto in senso negativo eh cioè nessuno ha memoria di casi in cui si accede alla misura alternativa eh in condizioni eh di questo di questo genere. Quindi diciamo risulta una misura sostanzialmente inattuata e inapplicata. Per quanto riguarda le soluzioni eh prospettate e eh vado verso eh la conclusione eh diciamo la gran parte degli interlocutori avanzano eh la necessità di eh una regolamentazione più eh netta delle articolazioni di sutella della salute mentale. Una regolamentazione che dovrebbe anche eh prevedere eh diciamo le tipologie di di casi eh che eh possono essere presi in carico ma anche i rispettivi compiti all'interno dell'articolazione cioè cosa quale agenzia si occupa di cosa in maniera molto eh diciamo netta. Eh inoltre eh molti hanno dato importanza a ehm implementare la cooperazione interistituzionale. Quindi eh trovare delle forme anche attraverso protocolli intese eh e atti insomma di questo genere per raggiungere un maggiore livello di cooperazione tra le istituzioni coinvolte perché abbiamo insomma ci hanno le varie istituzioni hanno lamentato tutte una carenza di cooperazione o comunque delle difficoltà nella cooperazione tra istituzioni. Un altro punto che è emerso in molte delle interviste eh la necessità di ampliare le REMS. Su questo vorremmo fare una nota ovviamente eh c'è chi ha scritto la ricerca ma noi come insomma società della ragione non condividiamo questa eh visione anche perché mh si ritiene eh diciamo si individua come problematico il fatto che ehm diciamo la eh mancanza di posti REM e REMS comporterebbe un numero eh enorme di persone in carcere senza titolo. Dall'ultima relazione eh del garante per il del garante regionale per il duemilaventuno eh risulta che le persone in carcere senza titolo in attesa di un posti REMS fossero due. Ora non proprio propriamente dei numeri eh allarmanti e che possono far pensare che il problema principale eh della salute eh mentale in carcere sia quello eh della mancanza di posti nelle REMS. Probabilmente eh come già accennava Katia quello che viene individuato come problematico è la mancanza di un'istituzione dove eh diciamo inviare eh i casi problematici. Cioè l'OPG non ospitava solo persone in misura di sicurezza ma anche persone in osservazione come ci diceva Katia quindi c'era sempre per il carcere una valvola di sfogo per i casi più problematici potevano essere inviati nell'ulteriore istituzione del residuo cioè c'era l'istituzione del residuo A e poi quella del residuo del residuo dove finivano eh le altre situazioni quelle ancora più complesse. Probabilmente si fa riferimento alla carenza di posti REMS ma quello che si legge come problematico della riforma è la mancanza di un'istituzione dove mandare le persone che eh creano problematiche sostanzialmente. Eh infine eh diciamo alcuni chiedono eh maggiori investimenti e ritengono che sarebbero necessari maggiori investimenti maggiori investimenti non tanto e non solo sui servizi interni ma eh soprattutto eh su eh i servizi esterni quindi si individua tra le problematiche per esempio della difficoltà di attuare la sentenza novantanove del duemiladiciannove la mancanza eh di servizi esterni che possano ospitare eh le persone che potrebbero accedere alla misura. Eh inoltre eh sempre tra gli investimenti alcune agenzie soprattutto non tanto quella penitenziaria e quella sanitaria ma le altre eh richiederebbero degli interventi eh di formazione perché ritengono di non essere diciamo di non avere le capacità e gli strumenti per poter affrontare le specifiche situazioni di vulnerabilità eh rappresentate dalle persone con disagio psichico in carcere. E con questo chiudo. Ripasso la parola a Katia. Sì. Allora. Ma io ho soltanto due due brevi commenti a questo punto. Ehm una cosa importante che che è emersa da questa ricerca piccola ma insomma ben mirata appunto sulla sulla condizione di di Sollicciano. E questa come come Giulia l'ha chiamata secondo me in modo molto molto significativo lotta per la definizione no? Chi è psichiatrico? Cioè nel definire se una persona detenuta è psichiatrica si gioca tutto mh un conflitto di eh di relazioni e di potere sia nei confronti della persona nel momento in cui si appunto attribuisce una un'etichetta ma anche di eh posizioni reciproche tra le istituzioni che eh lavorano all'interno del carcere. Quindi quell'etichetta è veramente un un punto di arrivo di una serie di relazioni di potere che via via si si ricompongono e il conflitto è diciamo costantemente aperto da questo da questo punto di vista. Eh l'altra l'altra questione importante che appunto emerge dalle dalle risposte e che poi ci ci apre insomma anche alle alle riflessioni future alle future ricerche è il il rimando all'esterno. Eh la misura prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale ci dicono non è attuata anche perché appunto ci sono difficoltà problemi non meglio identificati nel rapporto con l'esterno cioè nel trovare una struttura oppure nell'avere un raccordo con una struttura insomma queste sono tutte questioni che ehm sono da sono da approfondire ecco e in ogni caso l'esterno è comunque quella quella direzione in cui sia la la riforma eh del superamento dell'OPG guarda eh sia eh in un certo senso anche le le problematiche individuate guardano quindi credo che anche per noi sia molto importante guardare verso questo esterno del carcere e capire quanto è eh in grado a voglia a i mezzi le competenze per eh far sì che quello che è dentro poi possa andare fuori ecco ci ci facciamo come adesso insomma non so se ci sono eh lì ci sono delle sedie non so se eh ci sono interventi in collegamento sì allora abbiamo in collegamento Camillo Donati e e Patrizia Meringolo io direi subito di dare loro la parola sì sì eh però chiudiamo la fase delle presentazioni della valutazioni della valutazioni della ricerca poi facciamo una una discussione fra i presenti allora ci siamo o no c'è qualche problema intanto dico che eh questa su questa questione della salute mentale in carcere eh ci saranno diversi appuntamenti organizzati dai garanti a livello nazionale e anche a Udine nei mesi di ottobre novembre pensiamo di organizzare un seminario anche a partire eh dalle riflessioni della ricerca che abbiamo presentato oggi ci siamo c'è Camillo Donati mi sentite sì buongiorno a tutti grazie ehm innanzitutto mi volevo scusare per non essere potuto venire ci senevo molto eh era da tante pianificavamo questo evento purtroppo ho avuto un inforto nel mio stringere a casa e mi presento molto velocemente io sono Camillo Donati sono uno psicologo e faccio parte di uno spin off dell'università che si chiama Labcom eh scusa Camillo puoi attivare il video? purtroppo no Franco mi dispiace no ma la delusione è molto forte qui in sala è anche poco cinematografico mi dispiace ma sono costretto a seguire da sdraiato perché ho un infortunio alla schiena non mi vedreste comunque va beh bene allora concentriamo l'attenzione sulle parole grazie scusate ancora per il disagio ehm dicevo appunto noi facciamo un lavoro eh con partner e in questo caso con società della ragione perché siamo esperti di ricerca e di valutazione eh nel progetto di cui di cui stiamo parlando in questa giornata eh ci siamo appunto occupati di cercare insieme al team di progetto di valutare quali potessero essere le ricadute a livello sociale psicologico sul territorio e non soltanto della ricerca che è stata fatta ehm come premessa iniziale eh volevo dire che anche dal punto di vista metodologico è piuttosto difficile andare insieme a un lavoro di analisi e di approfondimento di quelle che sono le caratteristiche di un sistema così complesso andare anche a poi eh ritrovare degli esiti pratici sul territorio e su quelli che sono il sistema dei servizi eh dall'altra parte però il grosso impegno che è stato portato avanti in questa ricerca ci ha consentito di focalizzarci non soltanto su una valutazione di quella che è la corrispondenza rispetto agli obiettivi che sono stati definiti insieme al comitente quindi Fondazione Cassa di Risparmio in questo caso e sulla qualità degli obiettivi ci siamo dati eh da approfondire in questa ricerca ehm di cui chiaramente gli esiti sulla eh percorso di vita delle persone e sulle comunità in cui loro vivono eh sono state sono state accennate diciamo anche in questa sede da chi mi ha preceduto e sono chiaramente eh numerosi molteplici e e molto e molto importanti eh l'altra cosa che abbiamo cercato di fare fin da subito con questo progetto è stato quello di cercare di capire come eh come diceva Franco in un sistema in cui diciamo le eh le rivoluzioni sono fatte soltanto a livello semantico è difficile insomma cogliere la permeabilità di un sistema una volta comunque venuti a conoscenza di quelle che sono le evidenze e le caratteristiche di pregio e soprattutto di difficoltà che che la contraddistinguono andare a portare un cambiamento quindi ragionare sul cambiamento che una ricerca di questo tipo può portare sul dibattito pubblico è stato diciamo la parte principale del nostro lavoro eh l'abbiamo fatto durante durante le attività di progetto e quindi confrontandoci continuamente eh rispetto alla qualità degli interlocutori che venivano ascoltati e la qualità delle informazioni che ci venivano date quindi è stato un lavoro di monitoraggio interno e di cercare di capire come fare per cogliere il massimo dall'opportunità che c'era stata data eh dall'altra parte chiaramente la riflessione su quello che eh possono essere le ricadute in un lungo periodo in un periodo in cui appunto le certezze sono sempre poche sui orizzonti temporali di medio e lungo termine eh non è stato facile però allo stesso tempo abbiamo appunto individuato tutta una serie di eh attività e di eh percorsi di eh aggiornamento di approfondimento delle tematiche che sono state evidenziate dalla ricerca per cercare di aumentare eh la qualità del dibattito politico e pubblico che avviene attorno a questi elementi a partire da quelle sono le evidenze che hanno trovato il team di ricerca e quindi abbiamo soffermato molto la nostra analisi su quelle sono eh le diciamo gli approfondimenti e gli aggiornamenti sul quello che è il panorama eh giuridico e quindi la 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 il set normativo di funzionamento dei servizi ma una parte molto importante diciamo necessaria per poi lanciare delle attività progettuali più pratiche più operative nel futuro sono state tutte le parti di eh ricerca che sono state svolte per inquadrare quali cambiamenti ha portato e quali conseguenze ha portato la pandemia eh covid-19 sul sistema carcere in Italia in particolare sul panorama toscano ma soprattutto andare a capire quali possono essere quei valori aggiunti per indirizzare efficacemente azioni progettuali future eh tramite le persone che sono eh quelli che in letteratura eh scientifica si amano eh portatori di interesse stakeholder o eh diciamo eh attori privilegiati all'interno di questo di questo dibattito ovvero le persone che anche oggi sono in questa giornata quindi abbiamo individuato la giornata di oggi e una serie di comunicazioni all'interno di convegni per fare in modo che queste eh risultanze che sono state evidenziate dalla ricerca vengano poi eh rielavorate insieme a un pubblico di personaggi interessati per poter portare poi un arricchimento nel dibattito e cercare di trovare delle soluzioni eh in parte individuate anche da questa ricerca per eh monitorare la 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 questione della salute mentale delle persone in stato di attenzione e soprattutto produrre delle soluzioni anche tramite percorsi che vedranno coinvolge social della ragione e lab come i prossimi mesi e anni penso ehm in questo senso chiaramente eh il lavoro fatto con Patrizia Meringolo che invece vedete ringrazio è stato fondamentale ci siamo ci siamo rivelati molto su cercare di capire come eh questi esiti della della ricerca potessero essere eh sviluppati in futuro e chiaramente penso che Patrizia possa dare eh indicazioni maggiori rispetto a come questo percorso poi l'abbiamo l'abbiamo intrapreso e come ehm il dibattito insieme ai servizi sia stato approfondito dalla ricerca e come questo possa portare generare un possibile cambiamento in futuro. Grazie Camillo eh adesso eh un prima di Patrizia Meringolo un intervento di Grazia Zuffa che è la presidente della società della ragione deve venire qua allora sì eh ci tenevo a dire un qualcosa anche di molto breve prima di Patrizia Meringolo in modo che Patrizia poi può come dire completare anche da un punto di vista ehm teorico. Grazie. 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 interazione con l'ambiente scompare con la conseguenza che qui lo devo dire in maniera molto affrettata che in questa logica la patologia psichiatrica fondamentalmente diventa una patologia irrecuperabile perché appunto è un deficit diciamo biologico poi fondamentalmente eh in gran parte della persona eh su cui quindi si agisce ben poco e quindi eh si rientra appunto in un panorama di fondamentale irrecuperabilità delle persone e infatti andavano in manicomio e infatti andavano in manicomio cioè la catalogazione era strettamente in relazione con quella che poi era la soluzione che era quella del contenitore speciale contenitore speciale per il malato mentale in cui l'idea era che ci rimaneva tutta la vita poi mh forse magari l'idea forse non era esattamente questa ma nella pratica era questo questo allora questo discorso eh vabbè da un punto secondo me intanto fa vedere l'importanza della ricerca per assaggiare la cultura delle varie agenzie e anche i punti di contatto diciamo eh della cultura delle varie agenzie perché se ho capito bene posso non aver capito bene se questo eh diciamo problema di classificazione chi è psichiatrico è a rovella sia eh i sanitari diciamo così che e i quelli del carcere significa che c'è ancora un al di là del discorso la salute come dire l'adesione nominalistica questa sì all'impostazione dell'OMS ma insomma c'è uno zoccolo duro che riguarda non solamente l'amministrazione penitenziaria ma che riguarda anche i servizi sanitari in cui questa nostalgia del manicomio insomma fermenta in qualche modo allora detto questo questo ci riporta direttamente a l'articolazione salute mentale e qui io non lo so sono dubbiosa naturalmente ma io vorrei che prima che della regolamentazione dell'articolazione salute mentale che pure un problema rilevante ma ci fosse ancora una riflessione su che cosa sono a che cosa servono quale idea c'è dietro l'articolazione della salute mentale perché lo ripeto se eh l'idea del contenitore diciamo sanitario speciale per malati mentali è l'idea del manicomio quindi se di fatto l'articolazione salute mentale vuole riprodurre questo all'interno del del carcere vuol dire semplicemente che si sta riproponendo un piccolo manicomio dentro il carcere allora diciamo quindi una cosa è avere un reparto eh dovrebbe essere diciamo in conseguenza a gestione sanitaria se si vuoi in cui eh approfondire le caratteristiche delle persone cercare di capire meglio certi particolari disagi certi incompatibilità eh fare se volete fare anche come dire un periodo di eh eh intervento intensivo si potrebbe dire no diciamo su alcune persone eh le quali che però eh limitato nel tempo non è che possono stare lì quindi diciamo le persone che hanno problemi più gravi dovrebbero andare fuori dal carcere in misura alternativa ed è grave quello che viene fuori che appunto la sentenza 99 non è applicata perché di nuovo questo fa capire che siamo nella logica manicomiale perché non si fa perché è la logica manicomiale quella cioè è quella appunto che eh deve rimanere in custodia fondamentalmente non solo mh e non tanto per il reato ma perché si considera matto quindi i quelli più cari vanno lì e gli altri però bisogna trovare come dire all'interno del del carcere un modo per eh come dire eh eh rendere meno patogene le condizioni di detenzione e da questo punto di vista io di nuovo c'è un problema per l'assistenza sanitaria in carcere c'è un problema per il dipartimento salute mentale perché il dipartimento salute mentale non può limitarsi solo a prendere in carico le persone eh con particolari disturbi psichiatrici ma deve tutelare la salute mentale in carcere cioè deve tutelare il più possibile che non si aggravino che non soffrano che non stiano male le persone diciamo che non hanno particolari disturbi ma che però sono a rischio perché il carcere è a rischio per la salute mentale allora io chiedo il dipartimento salute mentale l'azienda non lo so bene ora chi può essere titolare ma fa un piano sanitario per il carcere c'è un piano sanitario ci deve essere scusate ci deve essere un piano sanitario in cui si individuano quelle che sono le priorità eh si individuano quelli che sono gli interventi diciamo che si considerano essenziali eh per tutelare la salute mentale e su questo evento poi si va a discutere con l'amministrazione penitenziaria ma l'iniziativa deve essere del servizio sanitario nazionale se l'iniziativa non è del servizio sanitario nazionale scusatemi tanto ma non riesco a capire bene che cosa faccia il servizio sanitario nazionale che che cosa faccia voglio dire che cosa di innovativo che cosa nella direzione della di eh della riforma sanitaria fa il sistema sanitario nazionale diventa semplicemente forse una questione di per carità migliore gestione dei soldi migliore gestione delle risorse io non voglio dire ma dal punto di vista diciamo dell'idea forte della riforma sanitaria non ci siamo non ci siamo insomma tanto meno di quello che è la tutela della salute mentale non l'abbiamo esplicitato ma eh Margara eh ci ha dato delle chiavi di lettura uno il carcere in luogo di detenzione sociale di scarica sociale addirittura definita e secondo che il carcere è patogeno quindi il problema non basta fare una fotografia alla realtà del carcere bisogna sapere che è un luogo che produce malattia eh fisica ma ovviamente in maniera più accentuata anche malattia eh disturbo malattia chiamiamolo genericamente malattia mentale quindi il eh questi riferimenti sono attuali oggi proprio in questa nostra giornata allora patrizia meringolo ci sei grazie ci sono il video e poi parlare sì mi sentite sì un po' trepolante beh questo allora io ringrazio grazia perché come dire mi ha dato l'assist e su cui mi posso collegare in questa ricerca noi alla fine abbiamo fatto un panel di discussione con gli esperti che diciamo è stato molto interessante perché significava discutere con le persone dentro al sistema specifico carcere e ad esso collegato su quanto era emerso per verificare insieme gli spunti ehm che si venivano delineando quindi il fare un panel serve sempre molto perché ci aiuta a contestualizzare i risultati della ricerca e soprattutto a vedere le possibili indicazioni utili quindi riprendo le suggestioni di grazia perché eh mi sembrano molto interessanti intanto noi siamo abituati e qui ripiglio anche un discorso teorico più generale perché sennò quando si parla di calce si parla sempre di un mondo a parte per il quale non valgono come dire i saperi esistenti sembrano non valere i saperi esistenti allora psichiatria salute mentale non salute mentale non è una cosa binaria cioè non è che si è sani o malati sì no c'è tutta una gamma dalle situazioni diciamo così più gestibili alle situazioni più acute dalle situazioni più legate al vissuto individuale alle situazioni più legate all'aspetto contestuale prima del carcere e soprattutto il carcere allora noi spesso usiamo la dizione folli rei rei folli che comunque secondo me andrebbe approfondita perché siamo comunque sul binario ehm se no quando si dice binario e si pensa che sia solo riferito a genere e binario è un modo di pensare del sì no o di tutta una gamma allora ci sono delle situazioni in cui il reato fa esplodere dei meccanismi di cui nessuno si è occupato prima e ha ragione grazie a un problema di salute più generale oltre di salute mentale e poi ci sono delle situazioni contenibili senza carcere che invece il carcere esplodono perché è un'istituzione chiusa esattamente come ci si ammala in ospedale come ci si ammala nelle residenze per anziani eccetera eccetera allora intanto scomponere questo meccanismo perché se no e qui mi fa piacere che abbiate citato franco accettato la discarica sociale eh di Margara la psichiatria diventa una discarica sociale di secondi brevilo cioè già il carcere funziona come discarica sociale dopodiché la psichiatria quando si arriva a delle situazioni non gestibili diventa una specie di secondo livello di discarica e allora a quel punto c'è nasce la nostalgia di un chiuso più chiuso cioè in cui eh quella che grazie a diceva nostalgia manicomiale ma che viene fuori come nostalgia manicomiale detta in vari modi declinata in vari modi in cui a quel punto c'è il chiuso più chiuso perché si nega la possibilità di intendere di volere delle persone quindi diventa anche in totale l'istituzione totale nell'istituzione totale di fronte a tutto ciò io riflettevo anche su un'altra cosa la definizione che cos'è psichiatrico che cosa non è nel mondo non nel mondo comune non diciamolo normale ma insomma nel mondo scientifico ora c'è tutto il dibattito ma non è da ora è da anni sulla funzionalità della diagnosi in quanto diagnosi cioè la diagnosi come etichetta non ti serve ti serve o per motivi comunicativi o e o fiscali come il dsm che per questo è nato per motivi comunicativi o per motivi fiscali per motivi di tipo terapeutico la diagnosi possiamo anche chiamarla diagnosi ma da una parte è un'indicazione di percorso ma è anche un voler dire io psicoterapeuta me ne posso occupare oppure io ho bisogno di uno staff con altri è un'indicazione di percorso non solo ma tutto il dibattito più innovativo vede il senso della diagnosi come qualcosa che si esplica man mano che si allevia il problema quindi non serve per risolvere il problema ma è la soluzione del problema che ti fa capire qual era e qual era eventualmente la diagnosi allora tutto questo su cui si sta studiando e non proprio da ora da diversi anni salta quando si parla di carcere ma è successo la stessa cosa nel dibattito nel piano cioè il piano d'azione sulle dipendenze anche lì ritornava fuori la diagnosi cioè sembra che quello si studia fuori non serve a nulla oppure serva per un altro mondo che non è questo allora su questo mi sembra che sia dalla ricerca che dal panel sia venute fuori delle indicazioni sia di riflessione teorica sui problemi e quando io dico riflessione teorica non vuol dire una cosa avulsa dalla pratica vuol dire qualcosa di strettamente legato alla pratica perché vuol dire riflettere su quello che si fa e studiare quello che succede nei luoghi dove sembra funzionare meglio non lo so dire in modo più veloce quindi da una parte di riflettere l'altra esigenza a cui avete già accennato mi sembrava di esserci anche cammino è quella formativa cioè le definizioni le semplificazioni le chiusure le i reparti sempre più specializzati in qualche modo servono per semplificare il problema noi abbiamo bisogno invece di farsi carico della complessità dei problemi e questo significa appunto primo formazione perché non ci si improvvisa nemmeno noi eh cioè noi ci si studia per cercare di capire e non dico di risolvere intanto di capire e seconda cosa la rete dei servizi e qui non ripeto l'ha già detto grazia su un piano della salute perché anche sulla salute mentale vale quello che si dice sulla salute in generale se no si fa del carcere un mondo a parte e della salute mentale un mondo a parte nel mondo a parte come se non valessero le competenze utilizzabili in altri sedi allora per questo mi è sembrato importante questo tipo di lavoro e concludo con una sottolineatura perché la società della ragione fa queste cose secondo me la cosa interessante è che la società della regione che di per sé è un'associazione promozione sociale non è una società scientifica però la società della ragione promuove ricerche per intanto valorizzare quello che succede nell'ambito della scienza e poi per cercare di farne tesoro per tradurle in iniziativa politica più generale di sensibilizzazione da una parte ma anche di di proposizione di linee guida perché attiene a una visione del mondo e dei rapporti che riguarda tutti grazie poi se non sono stata chiara me lo dite grazie ecco mi pare che la ricerca in tutti i suoi aspetti e sfaccettature è stata presentata mi pare che siamo coi tempi previsti abbiamo uno spazio per dei commenti e degli approfondimenti poi abbiamo la parte dedicata all'archivio margara e a questa giornata importante per questa prospettiva di un appuntamento per inaugurare un giardino margara e quindi con la presenza qui anche oggi della fondazione michelucci e ora mi pare che ero scruccolini che garante dei detenuti del comune di firenze abbia chiesto la parola adesso gli chiedo di venire quasi qualcuno sì 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 poi corrado marcetti poi scalia vincenzo scalia e ecco qua ti passo non è di amplificazione posso parlare così ok intanto grazie di questo appuntamento lo stimolo della ricerca sicuramente interessante ma volevo aprire questo incontro proprio perché le sottolineature fatte dal da corleone rispetto alla giornata di oggi quindi il pensiero di margara come dire l'esperienza di margara e ha messo in primo luogo il tema dell'affettività allora volevo aprire con un aspetto positivo che ho già annunciato l'otto luglio quando ci siamo visti al giardino degli incontri che in qualche modo il tema dell'affettività l'abbiamo voluto tradurre non solo sulla parte diciamo sì all'interno degli istituti carcerali quindi c'è la proposta di legge in parlamento in discussione ma anche sul territorio per cui con una associazione fiorentina che gestisce un centro d'accoglienza dove le persone vanno in misura alternativa c'è stata una scelta appunto di avere anche lo spazio dell'affettività per cui chi ha moglie compagna fidanzata e quant'altro può in qualche modo usufruire di questo spazio mi sembra un aspetto importante quindi di non limitarci al alla realtà del carcere che è fondamentale non la voglio assolutamente sottovalutare ma mi piaceva come dire aver tradotto il pensiero di Margara anche sul territorio con questa esperienza che credo sia la seconda sul piano nazionale perché ho visto nella nella ricerca e solitamente facciamo per vedere anche di rappresentare altre realtà solo a Padova c'è un centro d'accoglienza che dà questa opportunità entrando nel merito della ricerca io sono d'accordissimo quella diceva grazie a zuffa sia nei contenuti sia diciamo così nel lo sprint che metteva nelle sue sottolineature rispetto a certe problematiche io credo che ci sia un'ignoranza anche sul piano culturale perché tutto come diceva corleone si traduce sono pazzi perché hanno certi comportamenti bisogna riuscire in qualche modo a capire le persone il perché si comportano in quel modo e non è perché hanno problematiche psichiatriche ma situazioni di disagio quindi saper distinguere questi due aspetti di scarica sociale che chiaramente essendo una realtà patogena come dire trasferisce problematiche di disagio alcuni interrogativi che grazia poneva me li sono posti anch'io per cui abbiamo chiesto una relazione al dottor scarpa sull'esperienza dell'articolazione che abbiamo a sollicciano dove vorrei in qualche modo sottolineare sono otto posti quindi ora noi abbiamo attualmente circa 550 detenuti quindi non è che abbiamo questo chissà grande problematica di aspetti psichiatrici la questione è partita sicuramente corleone se lo ricorderà quando il capo del dipartimento essendoci state molte manifestazioni nei carceri di protesta rispetto alla condizione di vita fece una circolare dicendo si doveva fare un approfondimento perché erano secondo lui c'era un incremento notevole di problematiche psichiatriche devo dire che in toscana questa indagine noi abbiamo fatto il risultato che non era assolutamente vero quindi era catalogabile il manifestare un disagio ma che non si esprimeva in quanto uno aveva problemi psichiatrici quindi noi abbiamo in qualche modo dato continuità a questo approfondimento rispetto alla condizione di sollicciano quindi veniva detto nella ricerca atti di autolesionismo aggressione alla polizia penitenziaria e al personale sanitario quindi abbiamo chiesto la disponibilità al dottor morello e ce l'ha concessa abbiamo costituito un gruppo di lavoro e abbiamo fatto alcune audizioni con la direzione con il provveditore con il presidente della cooperativa san pietro e con una ricercatrice dell'università di psicologia che sta portando avanti un progetto per interventi laddove è possibile diminuzione di psicofarmaci sostituiti da attività psicosociali l'altra esperienza grazia quando te dicevi ma sperimentazioni noi da tempo avevamo aperto un dialogo con il centro sagara e stamani è presente la responsabile eravamo partiti se non ricordo male prima della pandemia poi la pandemia non ha permesso l'ingresso a persone che non erano legate professionalmente al servizio sanitario eccetera ha ripreso recentemente è qui presente il centro sagara porta avanti questo aspetto dell'etno clinica non mi voglio sbilanciare perché può darsi dica cose inesatte quindi lascia a lei l'approfondimento ma da quello che io ho capito è un'articolazione nell'ambito psichiatrico che affronta prevalentemente questo servizio nel rapporto con le persone straniere perché bisogna come dire conoscere la cultura le origini abbiamo realtà nazionali dove ancora ci sono le tribù e quant'altro quindi ci sono tutta una serie di impostazioni eccetera e vanno in qualche modo conosciute per rimuovere certe situazioni di disagio e di asocialità delle persone straniere quindi questa è una sperimentazione che credo sia interessante dare a cui sia interessante dare continuità ritornando un attimo all'approfondimento che noi abbiamo fatto siamo arrivati alla determinazione di aver bisogno nell'ambito del disagio mentale noi pensiamo di individuarlo in questo senso e non non ha raggiunto il l'elemento psichiatrico di avere anche un maggior numero di educatori psichiatrici ne abbiamo soli due a sollicciano io credo sia bisognerebbe arrivare a 4 6 8 e quant'altro perché queste persone possano in qualche modo seguire quelle persone che sono state individuate dall'equipe di psichiatri e psicologi etnoclinica e quant'altro come persone attenzionate ad un certo livello di disagio che hanno bisogno di essere seguiti per svolgere delle attività psicosociali di svolgere piccole attività di lavoro cioè di essere impegnati nell'arco della giornata facendoli stare un certo numero di ore fuori dalla camera di pernottamento perché poi il disagio deriva anche da qui perché molte persone stanno chiuse 18 20 ore nelle camere di pernottamento e poi sono le solite celle insomma non c'è un cambiamento sostanziale da questo punto di vista vengo all'altro problema che giustamente grazie a posto noi da tempo stiamo portando da tempo da 2 3 anni anche su stimolo ora è alla mia destra ma penso che in qualche modo abbia un'esperienza molto avanzata con corleone abbiamo iniziato a parlare di progetto benessere rivolto a tutti non solo alle persone detenute ma anche alle persone che lavorano quindi la polizia penitenziaria i dipendenti del settore della sanità e quant'altro quindi da questo punto di vista abbiamo anche qui coinvolgendo l'università non abbiamo fatto chissà quale grande scoperta però il lavoro è determinante l'aspetto del lavoro è determinante perché crea benessere a noi che stiamo fuori figuriamoci a chi sta dentro dove da elementi di formazione innalza il livello di autostima e permette di mandare qualche centinaio di euro alla famiglia e quindi di non sentirsi come dire eh emarginato che non possa in qualche modo anche essendo in carcere privato della libertà dare un sostegno alla propria famiglia quindi stiamo eh intraprendendo tutta una serie di rapporti per esempio c'è una disponibilità delle di un gruppo di aziende artigiane del di scandici eccetera che sono disponibili a eh eh portare avanti un progetto di economia circolare sul recupero della pelle di scarto dove poter aprire un'attività dentro e fuori dal carcere quindi alcuni inserimenti sette inserimenti sono già stati fatti all'interno delle aziende eh sul territorio in misura alternativa ci sono altre c'è il laboratorio sartoriale al femminile dobbiamo incrementare anche le attività psicosociali perché quelle finanzi quelle attualmente presenti sono finanziate al comune della regione noi abbiamo sollecitato il dipartimento a coinvolgere anche a San Mende cioè noi non possiamo continuare a fare supplenza il dipartimento deve fare anche la propria parte il sindaco nell'ottobre scorso in consiglio comunale quando ho fatto la relazione al consiglio metteva in evidenza che il dipartimento spende 70 centesimi per la parte trattamentale per ogni persona detenuta e questo sicuramente è un aspetto molto negativo quello che noi chiediamo al dipartimento è il personale polizia penitenziaria educatori ma quello che chiediamo è anche un'inversione di tendenza nel mettere in evidenza un aspetto priori prioritario è quello trattamentale trattamento e sicurezza non sicurezza e trattamento è un'inversione di tendenza importante importantissima noi dobbiamo cambiare la condizione di vita all'interno del carcere oggi eh come dire antigone ci dice la vita in carcere deve essere sempre più simile a quella esterna ma quella attuale in carcere quella di un RSA si mangia a mezzogiorno mezzogiorno e mezzo si mangia la cena alle 17 e 30 assolutamente bisogna portare l'esperienza di bollate dove fanno attività anche dopo cena perché noi dobbiamo incrementare di contenuto l'esperienza all'interno del carcere per esempio con l'acquisizione anche della patente che è uno strumento importante quando te vai all'ufficio al centro per l'impiego dove ti chiedono c'hai la patente oggi è uno strumento indispensabile per poter accedere a un lavoro vero noi abbiamo fatto un'esperienza come amministrazione comunale di protocolli con la cooperazione sociale di tipo B e anche qui bisogna stimolare lanci che in qualche modo si deve impegnare non solo a firmare dei protocolli come ha fatto sulle biblioteche senza risorse lanci deve in qualche modo con i propri comuni stabilire che un certo numero di gare vanno fatte alla cooperazione sociale di tipo B perché loro inseriscono il 30% del proprio personale persone svantaggiate chiaramente non possiamo pretendere 30% siano tutti detenuti anche psichiatrici disabili tossicodipendenti e non finiscono in carcere ma quello è un lavoro vero noi non possiamo continuare io ricevo costantemente segnalazioni da chi è in misura alternativa e non ce la fanno con una borsa lavoro di 350 400 500 euro anche a mantenere la famiglia e allora bisogna in qualche modo responsabilizzare le istituzioni nel dare le opportunità di lavoro vero di avere un contratto dove in qualche modo si riesce a sopperire se noi è lì che nasce il come dire il bivio fra intraprendere un percorso virtuoso e la recidiva gli strumenti ce l'abbiamo vanno in qualche modo attuati io credo moltissimo in questo lavoro che stiamo portando avanti sul progetto venese perché poi il comune in firenze per esempio ha deciso di dare un'opportunità nella ristrutturazione nel progetto della dell'ex caserma di scandici dei l'opportunità di un certo numero di alloggi per la polizia penitenziaria intorno ai due carceri sollicciano cozzini verrà realizzato un parco di undici ettari per fare una relazione eh territorio carcere eh entro l'anno sicuramente partiranno i lavori per realizzare degli orti fuori dal gozzini dove metà saranno gestiti dai eh 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 dai detenuti sollicciano cozzini e metà dai cittadini cioè noi bisogna sviluppare questa eh eh strategia di far rientrare il carcere all'interno di una comunità dove è protagonista e dove c'è un'attenzione di piena relazione sia per quanto riguarda il lavoro sia per quanto riguarda gli aspetti culturali. Grazie. Grazie. Devo dire che eh questi interventi di Eros Groccolini mi danno a l'opportunità di dire che è un caso clinico da esaminare per l'entusiasmo che manifesta eh eh contro tutto il il quadro che noi abbiamo e e quindi eh lo ringrazio anche per gli stimoli che ha presentato di sperimentazioni sociali e queste sono devo dire fondamentali. Ne approfitto per dire rispetto agli impegni del comune che siamo qui nel nella zona di San Salvi ed è proprio qua che con Cruccolini eh abbiamo cercato negli anni scorsi di imporre una ricerca e ci sono molti edifici adatti qui per la semilibertà che non dovrebbe essere confinata in un carcere ma in un luogo sociale come potrebbe essere la zona di San Salvi. Allora un un breve intervento della rappresentante di questa eh sperimentazione di rapporto con eh i detenuti non italiani diciamo perché questo eh come ha detto Eros pongono non solo dei problemi di lingua ma anche dei problemi di culture diverse e quindi avere presenza di mediatori culturali di progetti linguistici ma anche di una capacità di approfondimento delle diverse culture può essere una eh nuova pista da percorrere. Beh intanto ringrazio Eros perché con il suo entusiasmo e la sua passione oggi mi ha convocato qui in modo da eh creare questo raccordo con questo gruppo che sta lavorando che ehm che mi fa bene nel senso che è uno si sente un po' a casa rispetto alle cose condivido ma intanto ringrazio per la ricerca fatta perché a noi che lavoriamo dentro il carcere ci dà delle informazioni ed è utile quello che succede anche soprattutto per il fatto che non è focalizzato sulla parte migrante perché eh uno dei malintesi diciamo della questione eh cultura è che ehm noi spesso ci dimentichiamo che non esiste un umano senza cultura però è come invece qui nei progetti di per i migranti è come se la cultura ce l'avessero solo loro allora lì c'è proprio una questione che è soprattutto nell'ambito carcelario e soprattutto a Solicciano eh crea cioè se prima parlavamo di scarti parlavamo di persone marginali e compagni a lì siamo ancora di oltre eh siamo ancora diciamo negli scarti dei tra gli scarti allora la che cos'è la la nostra sperimentazione è una sperimentazione che ha eh come diciamo tendenza come obiettivo come cercare di mettere un po' di eh noi l'abbiamo pensata non come appunto almeno in questa fase come una eh un intervento che si ponesse come un un intervento che andava a coprire un deficit dentro tutta l'organizzazione questa è stata la nostra diciamo resistenza maggiore perché appena siamo entrati dentro qualcuno ci assegnava delle cose da fare ma che non è che era già però dentro un pensiero e un'organizzazione che non è detto che noi condividevassimo e quindi c'era un problema questa cosa ehm l'idea per noi è stato necessario cercare invece di creare tutto un discorso di mediazione ma non il un discorso di mediazione diciamo tra eh un povero disgraziato nero magari anche mandato via dal suo villa sto diciamo riferendomi a discorsi mandato via dal suo villaggio dell'Africa nera perché già lì era uno scatto e quindi poi si è fatto tutto quello che doveva fare per finire conosco tutti i problemi della migrazione ci lavoro da tantissimi anni però sto parlando di rappresentazioni culturali che poi impediscono il contatto e la relazione con le persone che sono lì ecco noi lì ci siamo trovati ad un certo punto a dover eh nella macina è psichiatrico non è psichiatrico chi è che se ne occupa chi è che ci chiama chi è che ci convoca chi come arriviamo a queste persone perché la nostra idea era proprio non entrando in un servizio per i detenuti era un servizio per gli operatori dei vari eh dall'educativo dalla parte diciamo penitenziaria che per cercare di mettere insieme una possibilità un pensiero comune su quello che era il problema e come si potevano mettere in campo delle azioni per risolvere questo problema quello è stato il lavoro più critico perché questa tensione che esiste tra il personale eh sanitario e il personale eh penitenziario del ministerio grazie giustizia con con eh continua a stridere e non ci si mette d'accordo e credo che in parte eh ci sia questo ha colto il centro secondo me della questione no eh la nostalgia o comunque il desiderio di creare un'istituzione ancora più rigida però quello che a noi è stato incredibile che in realtà quello che viene eh in questo Eros ha ragione quello che viene completamente opacizzato è la sofferenza che non è ancora malattia e lì c'è un problema perché quella sofferenza anche cioè tu hai una persona che si taglia una volta alla settimana è lì dentro da otto mesi e se hai c'ha quaranta cinquanta sessanta tagli sul corpo e continua e non è pazzo non è malato non è una allora gli psichiatri dicono non è psichiatrico il medico il medico diciamo ricuce le ferite e gli altri non sanno cosa fare allora lì c'è un problema c'è una una sofferenza che è prodotta cioè iatrogena dentro il sistema che è prodotta dal sistema e c'è una sofferenza che ha portato spesso anche a commettere quel reato perché soprattutto parlando di migranti i problemi e i reati che vengono fatti sono problemi legati alla povertà alla miseria alla non accesso a un sistema di eh diciamo di servizi che gli creano problemi quindi è come se da un problema sociale viene fuori un reato e questo reato viene poi messo dentro in un modo che non può che produrre sofferenza tanto che se persone o si chiudono in una cella e eh siamo riusciti appunto eh poi facciamo degli cioè noi abbiamo visto in da ottobre dell'anno scorso che lavoriamo abbiamo visto 40 persone quindi non è che stiamo però cercando di accompagnare queste persone in un non le persone da sole ma anche tutto il sistema quindi il ser perché poi spesso sono il ser della psichiatria il medico cioè c'è tutto una cercando di tessere una rete che questi potessero anche comprendere perché spesso quando tu arrivi da un altro sistema non capisci nulla noi ci abbiamo messo anche noi dei mesi cioè per noi è stato interessante non avere nulla non avere un'esperienza di lavoro in carcere perché ci ha permesso di capire le difficoltà che una persona che ci arriva può avere qui mi fermo perché potrei parlare tutto il giorno però mi fa molto piacere grazie grazie di questa esperienza questa sottolineatura sulla sofferenza che non è malattia e bisogna fermarla devo dire anche che è un'esperienza che chi lavora sul carcere sa che c'è anche ci dovrebbe essere l'impegno per il servizio sanitario per i medici di girare per le sezioni e andare a vedere per esempio le persone che sono in silenzio che stanno chiuse in cella non per perché sono chiuse ma perché volontariamente stanno in branda silenziosamente cioè perché ci sono quelle che di cui tutti parlano perché spaccano il televisore oppure perché urlano ma ancora più interessante credo sarebbe un lavoro su quelli che sono in silenzio quindi c'è un mondo da su cui lavorare molto vincenzo scalia sei qui e va bene mi faccio prendere al volo no grazie a tutti io volevo fare solo una breve riflessione su questa ricerca diciamo una riflessione positiva ma soprattutto negativa positiva per la qualità della ricerca per i problemi che solleva negativa perché io ricordo quando a metà degli anni 90 quindi ora un po di anni fa cominciai col dottorato con massimo paparini di questi temi si parlava proprio del carcere come discarica sociale era la formula di margara già cominciava ad imporsi e constatare che 26 anni dopo siamo ancora qua a parlare di discarica sociale constatare che questa simbiosi mortale per citare un altro autore tra tossicodipendenze marginalità sociale malattia mentale continua a costruire a costituire la cifra della detenzione certe volte insomma è quasi non vorrei dire del primente se no non saremmo qua però è la sensazione di impotenza di non riuscire ad incidere certe volte è forte anche alla luce di alcuni dati per dire altro giorno parlavo con il garante della regione Emilia Romagna che diceva in Emilia Romagna ci sono 3.500 detenuti di questi 3.500 500 sarebbero nelle piene condizioni di ottenere di differimento della pena e perché non si dà e allora mi viene anche un'altra riflessione da fare sì sicuramente se siamo ancora qui alla discarica sociale probabilmente o molto probabilmente direi quasi è perché sulla discarica sociale ci sono stati gli attori politici e mediatici che hanno costituito la rendita di posizione sul più carcere per tutti e dal 25 settembre rischiamo di consolidarle queste rendite di posizione ma io dico che dovremmo andare un po' dentro si è parlato di teoria secondo me c'è una parte anche microfisica qua dentro cioè al livello degli attori degli operatori del sistema penitenziario il sistema di giustizia c'è sempre questa tendenza questa tendenza egemone a dire io faccio il mio pezzo io seguo la mia razionalità seguo la necessità della produttività del mio sottosistema del streamer i miei outputs del del mio output perché devo rendere conto ai miei superiori devo rendere conto alle risorse che vengono erogate questo modo di ragionare eh alla fine orienta quasi quanto tutto il il populismo penale che ehm è diffuso diciamo i ehm i destini del ehm della spera penitenziaria nel senso che comunque eh il magistrato di sovriglianza dice io devo fare questo questo mi dice eh fare la legge questa è la mia impostazione eh dentro il carcere collegio di disciplina dice la stessa cosa e alla fine non si non si esce mai da questo ehm ideologia in senso lato non in senso politico contenitiva perché alla fine quello che orienta chi opera in questi settori è fortemente infrontato alla parte del contenimento quindi eh il lavoro da fare eh secondo me è quello di scardinare anche all'interno diciamo di questa eh microfisica proprio dei rapporti di potere che permea la spera penitenziaria questo tipo di logica questo tipo di razionalità perché se no eh io temo non vorrei che tra venticinque ventisei anni ci ritroviamo a parlare ancora di scarica sociale cioè dobbiamo cominciare a pensare al modo eh e alle forme di uscita da questa di scarica sociale grazie 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 professor Becchi intanto dico eh che è presente chile della balanza io ritiro fuori il concetto di discarica sociale perché eh c'è una cosa che mi ha sempre colpito in carcere e le discariche sono i contenitori di rifiuti il rifiuto sociale è chi ha commesso un reato normalmente cioè un criminale ecco in carcere non è detto che ci siano rifiuti perché c'è almeno un terzo che sono in atteso di giudizio quindi non sono rifiuto ancora e questi tra l'altro sappiamo non sono sottoposti neanche a cure trattamentali perché non sanno da che parte prenderli questo è un grande vuoto che c'è in carcere per la mia piccola esperienza là dentro c'è molto disagio mentale perché non so mi viene da fare un paragone stupido è come trovare nel deposito dell'asnu un anello con diamante da 40 carati uno dice ma come vai lì eh per fortuna l'anello non ragiona non ha una speranza mentale di reazione ma ci può essere un uomo che invece interpreta questa parte che è io la trovo assolutamente proponibile cioè che nella massa ignobile e infame come è etichettata la monnezza ci possa essere una gemma e e quindi il disagio mentale di questa gemma è assoluto è lacerante è disastroso va beh io pongo questo problema perché quella che viene chiamata con parole dolci custodia cautelare è proprio buttar via le persone grazie di questa evocazione da de andrè e c'è una persona qui il dottor nero che è stato molto amico di di margara alle ardi della fondazione michelucci luca maggiora della responsabile della camera penale di firenze io direi che prima di dare la parola a saverio migliori per la chiusura come archivio margara che raccoglie la vp società della ragione fondazione michelucci corrado marcetti potremmo dire che è una delle gemme io non devo fare una brevissima devo fare solo una brevissima domanda alle persone che hanno fatto la ricerca che non conoscevo ma ho apprezzato nella sintesi che è stata esposta la domanda è questa è stato possibile visitare questa come si chiama articolazione tutela salute mentale questi posti di cioè volevo sapere ma in quale parte del carcere sono state fatte questi questi otto posti questa sezione dove è vicino a cosa il giudiziario a penale all'infermeria che caratteristiche che caratteristiche gli hanno date assomiglia a un tso in scala carceraria a un infermeria ecco mi interessa perché tutto ragionamento ha fatto grazie a poi c'è tutto un risvolto che quello dei muri delle cose che incominciano a prendere forma anche nel piccolo di questa cosa ecco voglio sapere se ne sapete qualcosa di più se vi è stato possibile allora rispondo molto molto brevemente che no non abbiamo visitato l'articolazione in questo progetto e magari insomma se ci sarà occasione di ampliare approfondire il progetto lo lo faremo senza altro ecco comunque si è nella sezione femminile come diceva appunto il garante truccolini io lo la ricordo durante la costruzione che è stata molto laboriosa per ma dal fatto che ci fosse un problema di gradini e quindi fosse ritenuta inagibile perché adesso c'è tutto un problema delle caratteristiche di sicurezza per il lavoro che è per quella quei locali se non ricordo male ma poi magari ce lo dirà dopo eros furono non agibili ritenuti non agibili dal personale sanitario perché non era garantita la sicure le condizioni sicurezza del lavoro ormai cioè tutto è difensivo insomma no per cui noi grazie alla privacy distruggiamo alberi perché firmiamo carte e no per continuamente e così andiamo avanti luca maggiore un saluto sì e direi che questa ricerca se avremo modo potrà andare avanti anche con gli elementi di ricchezza che sono venuti oggi e anche con una partecipazione del del garante del carcere di sollicciano grazie grazie volevo ringraziarvi per la per l'invito soprattutto perché svolgete questi incontri che io seguo a volte a distanza a volte con come quando posso oggi cerco di presenziare no io volevo sono stato colpito da una come dire un intervento che ora non mi ricordo il nome però ragione esiste all'interno del del carcere il vero disagio che nasce proprio dalla condizione di detenzione esistono però e qui penso mi potrà aiutare il dottor nero che saluto e da tanto che non vedevo il rincontro piacevolmente ehm esiste anche una normativa che eh può tutelare la salute mentale in carcere e che dovrebbe e questo è forse un'autocritica all'avvocatura dovrebbe essere anche stimolata in in favore della magistratura in rapporto di collaborazione proprio dall'avvocatura esiste una normativa che può tutelare la salute in carcere e può arrivo anche a dire eh facilitare l'applicazione del principio fondamentale della legge ottantuno perché poi alla fine si può ricadere anche lì al fine di evitare che eh succeda quello che eh io sono arrivato tardi ma l'ho sentito grazia ha eh evidenziato come problema principale cioè che è quello di ritornare un po' al passato i matti sono matti quindi non ne parliamo buttiamoli in delle discariche che siano ventuno o che siano sei sullo come erano gli OPG sei sette ma l'importante è non parlarne leviamoceli dalla vista perché meno si vede meno meno paura ci fanno e il problema si risolve ehm recentemente sono riuscite tramite l'ufficio sorveglianza di Pisa a virgolette ottenere un provvedimento che in eh sia il cento quarantotto il cento quarantotto è l'infermità sopravvenuta o comunque però penso sia possa essere calzante e possa aiutare in questo dibattito oggi perché in buona sostanza ehm il cento quarantotto proprio in virtù di una vecchia sentenza della Corte Costituzionale del settantacinque può essere applicato anche come esecuzione di una pena all'interno di un regime eh sanitario parlo della REMS ora ma parlo anche di un'articolazione eh come c'è a Sollicciano questo permetterebbe in questa prospettiva di far svolgere un percorso eh di recupero di ripristino anche delle condizioni psicopatologiche di un soggetto che ha commesso un reato e piano piano reintrodurlo come come ci direbbe la legge ottantuno nel nella società riportare la società allora forse bisognerebbe anche ragionare in questi termini cioè di articolare un ragionamento una una discussione un un non parlo di progetti a me non piace parlare di progetti perché poi si parla tanto di progetti tu lo sai ma poi la progettualità muore sempre con con l'ideale con le robe varie quindi qualcosa di pratico e comune per riuscire a stimolare perché poi alla fine voglio dire è la magistratura che opera nel carcere e e applica o non applica un percorso alternativo alla detenzione sicuramente il l'argomento della custodia cautelare è il tema nero della vicenda perché noi sappiamo i dati alla mano che la custodia cautelare è il mare magno del problema perché se noi le passimo coloro che sono in custodia cautelare ora eros tutte le volte mi prende un po' per i fondelli dei braccialetti io non è un caso se da 2015 per questa questa battaglia sui braccialetti elettronici oggi ci sarebbero ad esempio tanti più rispetto al 2012 al 2015 se noi riuscissimo a operare un decremento della custodia cautelare in primo luogo si lavorerebbe meglio negli istituti ci si potrebbe concentrare sulle realtà e si potrebbero vedere anche quelle realtà dei silenziosi che tu hai evidenziato perché si vedono anche noi l'articolazione in carcere l'abbiamo visitata sono otto letti sono celle famose celle che sono state costruite con i pezzi di risulta dell'opg perché i i i lavandini sono quei lavandini di ferro che erano all'opg il televisore è stato messo con lo schermo in plexica perché non lo rompono paradossalmente sono molto più tranquilli lì che non alle sezioni comuni o quant'altro quindi ecco e chiudo sicuramente si può tutto quello che noi diciamo oggi è assolutamente vero però di base bisognerebbe stimolare un ragionamento giuridico perché il carcere ha un luogo dove la legge esercita il suo potere allora se non stimoliamo questa riflessione volta anche alla magistratura forse possiamo dire tutto e fare tutto ma poco andremo avanti io vi ringrazio davvero e mi scuso se mi sono permesso di intervenire no no grazie grazie e allora chiudiamo con l'intervento di nero minuto e e poi saverio migliori che ci dà le ultime notizie grazie grazie e i prossimi appuntamenti grazie volevo dire due cose sono a partire dalla custodia cautelare a cui accennato professor becchi già altre volte in passato effettivamente il carcere va visto anche da quella visuale appunto effettivamente non è solo appunto io in passato l'ho visto normalizzato di sorveglianza però che sono le matiche che fuoriescono dal problema appunto dell'esecuzione della pena ma che condizionano poi anche la resa e quindi la difficoltà della restituzione carceraria e su questo volevo e non credo che sia fuori tema anche rispetto a sandro margara anche se lui su alcune cose magari la vedeva un po' diversamente però probabilmente gli sviluppi successivi purtroppo non li ha potuti vedere e cioè il problema della custodia cautelare ma anche del processo penale è legato come tutti sapete alla riforma approvata cartabbia che io ho esaminato dato questo un po' più di tempo perché sono in pensione e devo dire che le semplificazioni giornalistiche come al solito sono molto certamente non è una una grandissima riforma certamente richiede eh l'opera del governo che ora purtroppo appunto probabilmente non ci sarà e quindi potrebbe essere un'altra occasione persa però guardate che ci sono molti aspetti positivi secondo me sia nel senso garantistico nel senso di una limitazione del pubblico ministero una maggiore eh responsabilizzazione anche del GIP rispetto sia all'archiviazione sia al fatto di non mandare a giudizio un sacco di gente dice vabbè poi vedrai il dibattimento insomma ci sono una serie di criteri più stringenti che potrebbero portare a una limitazione appunto del indirettamente la custodia in carcere d'altra parte purtroppo insomma col referendum insomma secondo me era anche illusorio pensare che si potesse essere diciamo recepita questa cosa dall'altra anche tornando ai temi appunto che interessavano eh tanto eh Sandro Marghera ci sono aspetti anche sul piano sostanziale sul sistema sanzionatorio per esempio anche se in maniera sicuramente timida si può fare di più ma insomma atteniamoci a quelle sono le possibilità anche politiche si dà il potere al giudice di cognizione e non è poco per le pene fino a quattro anni di sostituire la la pena carceraria con altre misure che sono magari ecco la detenzione d'omicidale la semilibertà che diventa il lavoro di pubblica utilità però guardate che le pene fino a quattro anni per chi conosce il caccia che non è poco insomma è certo ci vorrà ammesso ripeto che questa riforma possa andare in porto e cioè ci sono più purtroppo parecchi dubbi però anche una responsabilizzazione del giudice di merito di cognizione a dire ma guarda che non è che per tutte le cose la medicina è il caccere come che sia insomma ci sono delle sfumature differenziate su questo mi ha colpito il fatto che penalisti anche di di grande spessore molto conosciuti dico uno soprattutto il professor Palazzo che ora è andato in pensione di Firenze esprimeva anche lui un giudizio sostanzialmente positivo perlomeno su questi aspetti eh i giornali anche i politici sono basati soltanto sulla su quel discorso della improcedibilità che sicuramente è criticabile opinabile però comunque anche su quello una soluzione si deve trovare i penalisti insomma in questo hanno sicuramente almeno in parte ragione e quindi dire che insomma il processo non può essere infinito a un certo punto bisogna fare in modo che che si chiuda in qualche modo secondo me è una cosa obbligata ora ripeto si può discutere la scelta te quindi ecco dicevo mi sembra che questa riforma complessiva che pure manchevole eccetera eccetera però abbia una sua importanza e speriamo che non vada completamente persa perché è ultimo anche il discorso della giustizia riparativa certo Sandro Margara era molto eh critico su questa cosa però eh all'epoca insomma la la riparazione era una cosa abbastanza banale tipo non so mettere delle delle prescrizioni nel nell'affidamento in prova che veramente lasciamo nel tempo che trova qui il discorso è molto più ampio certo ci vorrà tempo però introdurre eh punto in una legge dello Stato eh il fatto che comunque ci possa essere anche una risposta diversa da quella punitiva tradizionale mi sembra una cosa importante quindi ripeto anche su questi argomenti secondo me bisognerebbe riflettere di più grazie per questa apertura anche all'attualità che c'è che ci potrebbe essere forse non ci sarà rimane rimane il fatto che eh io avevo trovato ma non so se nell'archivio Margara c'è una una frase di Sandro Margara in cui all'epoca in cui era ministro Alfano e nessuno se lo ricorda ma abbiamo avuto anche quello eh eh non ci siamo fatti mancare niente eh anche Giovanardi abbiamo avuto per le droghe insomma vabbè allora eh allora abbiamo eh Margara scrisse in quell'occasione l'articolo 27 come l'avrebbe scritto Alfano ed è fulminante questa cosa però io non so se ce l'abbiamo oppure l'abbiamo insomma lo dovrò ricercare perché era straordinario per l'ironia tagliente con cui l'aveva scritto molto devo dire in maniera anche dal punto di vista reazionario molto più efficace di come l'ha scritto il giurista che ha avuto l'ingiurista insomma parole grosse eh l'incaricato da la quella che viene considerata la leader emergente della destra italiana no che io non nomino per pudore e e eh lei ha dato l'incarico per riscrivere l'articolo 27 in realtà si è limitata solo ad aumentare un comm e dire che i commi precedenti eh sono carta straccia no? E Margara aveva attribuita ad Alfano invece con la sua ironia una riscrittura molto efficace però diciamo che la partita è aperta insomma no? Altro che eh quindi altro che eh nuovo processo penale possiamo addirittura avere la manomissione dell'articolo 27 con questa nota di ottimismo Saverio Migliori cerchiamo di non far scaldare il prosecco mi richiami alla raffinità allora mh devo dire insomma la mia sarà una comunicazione di servizio più che altro visto anche lo stimolo eh insomma anche no volevo ringraziare intanto la società della ragione perché comunque continuiamo per ormai il quinto anno consecutivo a eh realizzare delle occasioni in questa data in questa ricorrenza per credo tutti noi molto importante non solo al di là del primo anno forse il duemiladiciassette poi abbiamo cominciato qui nel duemiladiciotto in un piccolo incontro eravamo in pochi accaldati e poi ogni anno abbiamo fatto delle iniziative eh che non sono solo celebrative della ricorrenza ma in realtà entrano nei temi abbiamo fatto sulla costituzione del duemiladiciotto abbiamo affrontato eh il tema della della pandemia del dei problemi che sono stati nel duemilaventi nel duemilaventuno abbiamo ragionato sull'ergastolo stativo oggi sulla salute mentale con una certa positiva dico fluidità anche tra le organizzazioni poi che hanno istituito eh l'archivio Sandro Margara cioè la appunto la società della ragione la fondazione Giovanni Michelucci l'associazione volontariato penitenziario no per cui eh ci coordiniamo troviamo il modo di allargare un po' i confini ciascuno di comprendere possibilmente sempre eh il pensiero e l'approccio eh di di Sandro Margara eh qualche aggiornamento quelli possibili l'abbiamo fatto in diverse occasioni quest'anno l'archivio ha sede fisicamente presso la fondazione Michelucci abbiamo lavorato con le risorse che abbiamo sostanzialmente riordinando un po' il materiale eh donato dai figli presente presso la fondazione donato da Franco piuttosto che da tanti altri amici eccetera eh abbiamo oggi un elenco di consistenza quindi sappiamo abbastanza precisamente non del tutto ma insomma abbastanza precisamente cosa ci ha lasciato Margara ora valuteremo anche questa eh indicazione ci dava Franco non non ricordo di averla vista onestamente e adesso per quanto riguarda l'archivio bisogna fare il passo successivo quello di un vero e proprio catalogo sostanzialmente del dei materiali che non sono pochi ci ha lasciato anche tanti volumi e sono come dire incastonati un po' nella biblioteca della stessa eh fondazione eh Michelucci eh ripeto nella l'archivio diciamo non si concretizza esclusivamente come luogo luogo di eh rilettura approfondimento catalogo eccetera ma anche come spazio di confronto e in questa prospettiva abbiamo eh come così costruito queste occasioni eh che ricordavo prima eh quest'anno è diciamo è stato un un duemila ventuno duemila ventidue abbastanza intenso perché non solo per i lavori di archivio quello abbiamo potuto fare ma appunto anche per la ripubblicazione dell'antologia degli scritti che a suo tempo nel duemila eh quindici era ancora vivo Sandro Margara ricordo la prima copia di avergliela portata io dopo essere stati lì con Franco Corrado eh Nicola Solimano a scegliere il titolo insomma l'abbiamo già più volte ehm eh ricordato la prima edizione del duemila quindici c'è stata questa riedizione voluta da da Fanfani dal garante regionale ristampata dalla regione edita dalla fondazione con alcuni scritti in più ed è un materiale prezioso l'abbiamo presentato con la correzione di Franco e anche di della società della regione eh che è un lavorino non differente e quindi insomma c'è stata anche per questo la presentazione poi in un luogo altrettanto evocativo cioè il giardino degli incontri lo scorso otto luglio questa occasione e arriviamo un po' quello ci stava sollecitando più volte eh Franco cioè questa ipotesi di intitolazione di uno spazio pubblico cittadino a Sandro Margara abbiamo cominciato a parlarne alcuni anni fa in realtà di questa ipotesi come del resto abbiamo cominciato a parlare di un centro studi di un archivio che poi si è concretizzato in una qualche forma eh l'anno scorso il 29 di di luglio per l'appunto l'abbiamo ripresa questa proposta l'ha precisata è bene ricordarlo eh Corrado Marcetti all'interno anche della della nostra nel nostro incontro e da lì siamo un po' partiti nel sondare un po' il terreno per vedere se era possibile abbiamo deciso di lanciare un appello che rinforzasse un po' la proposta di intitolazione l'abbiamo eh fatto circolare per dicembre febbraio marzo di quest'anno l'appello ha ricevuto all'incirca 500 firme io credo tante in realtà di tanti amici fiorentini ma non solo eh sparpagliate un po' ovunque in Italia eh probabilmente molti non l'avevano eh visto non l'hanno visto perché eh di leggendi nominativi ci si rende conto ci sono delle eh dei buchi che senz'altro non ci sarebbero dovuti essere ma probabilmente perché non è stato visto da tutti e comunque a supporto della proposta eh l'abbiamo presentato al comune eh come dire forse è partito timidamente questo lavoro da parte degli uffici eh nel comune in realtà poi c'è stato un interesse eh abbastanza intenso da parte dell'assessorato eh patrimonio non abitativo in primo luogo e all'assessorato al sociale eh la proposta ovviamente ci sono state anche tante interlocuzioni da parte nostra eh con assessori eh gli uffici personalità eccetera eccetera insomma poi è arrivata la commissione toponomastica la quale se ne è fatto carico ha fatto delle selezioni delle scelte c'è una proposta che non preciserò nel dettaglio perché eh ora dieci minuti fa tra l'altro con il presidente eh della commissione Mirko Ruffilli insomma ci siamo scambiati dei messaggi la proposta che la commissione ha già eh presentato eh per le valutazioni però è uscita dalla commissione toponomastica è al vaglio del demanio perché l'area individuata è anche demaniale quindi ha bisogno di un un vaglio in più oltre poi alle verifiche successive la zona l'area diciamo che è stata individuata è come dire nel vecchio quartiere carcerario sostanzialmente di di Firenze quindi zona Sant'Ambrogio eh per intenderci eh l'abbiamo discussa io ho parlato anche con i figli recentemente insomma presentando intanto la proposta perché non c'è nulla ovviamente di assolutamente certo però a molti di noi è apparsa come una soluzione eh interessante e probabilmente se va avanti da non lasciarsi neanche sfuggire per varie varie valutazioni vari motivi intanto continua ad essere abbastanza centrale eh è nel quartiere carcerario di un tempo diciamo molto vicina alle strutture per le quali insomma anche noi avevamo pensato una collocazione eh è una zona transitata e quindi anche anche giovane per certi aspetti quindi insomma richiama anche un po' quella nostra intenzione di luogo di di addivenire a un luogo significativo di incontro di scambio di passaggio eccetera eccetera quindi insomma raccoglie un po' tutti questi aspetti quindi bisogna aspettare ancora un po' che le valutazioni si compiano eh Franco io stesso eccetera stiamo un po' insistendo per vedere se in autunno si riesce comunque a sbloccare questa situazione sarebbe eh dovuto e credo che questo sia chiaro anche al comune di Firenze insomma ho registrato interesse ci sono state anche le proposte non cito perché insomma il lavoro va avanti che non erano assolutamente plausibili e trattabili va avanti il lavoro di archivio siamo disponibili vorremmo ora ne parleremo con il comitato di indirizzo a settembre eccetera eccetera come dire programmare anche delle attività che credo possano essere in parti seminariali magari non facendo solo l'occasione del ventinove ma programmando una barra due occasioni riprendendo il tema dell'affettività il tema dell'ergastolo sono quelli forse anche più eh diciamo tra virgoletti di attualità eh compatibilmente con con i cambiamenti ci saranno insomma dal punto di vista più generale di di legislatura quindi insomma daremo poi notizia grazie grazie Saverio mi pare che l'unica considerazione che mi sento di fare è che non dobbiamo stare fermi in attesa delle decisioni del demagno bisogna eh capire chi chi è la persona con nome e cognome per eh dare il parere al momento del brindisi dare dare il via su questo credo che potremmo avere aiuti da parte di tanti quindi io direi che con un ringraziamento a Serena Franchi e a Leo Fiorentini per l'organizzazione di questa giornata possiamo passare dall'altra parte a stappare le bottiglie grazie grazie grazie